A 18 anni di bagno a Ripoli è una campionessa internazionale di canottaggio della nuova Miss Montecatini, prima semifinalista di Miss Italia, il concorso che quest'anno si iterà a Montecatini Terme. Il corrispondente Luca Cecconi. Montecatini è già entrata nel clima di Miss Italia. La cittadina termale, come noto, ospiterà quest'anno la finale della 72esima edizione del prestigioso concorso di bellezza. Si tratta di un debutto assoluto. L'epilogo è in programma il 18 e 19 settembre al Palaterme. A condurre la diretta Rai sarà Fabrizio Frizzi che riprende il timone della manifestazione dopo nove anni. Ma già dal 25 agosto Montecatini sarà invasa dalle bellissime ragazze che prenderanno parte alle selezioni. Intanto, nello storico Caffè Gambrinus c'è già stato un primo concorso e una prima vincitrice. È stata eletta, infatti, Miss Montecatini, la fascia che dà diritto a prendere parte alla semifinale nazionale. Alla manifestazione era presente un gran pubblico che ha sostenuto le 18 partecipanti presentate da Raffaello Zanieri. A fare gli onori di casa il sindaco di Montecatini, Giuseppe Bellandi. Miss Montecatini è stata eletta Susanna Cicali, una studentessa di 18 anni di Bagno a Ripoli, campionessa internazionale di Canoa. Susanna ha preceduto nell'ordine Francesca Crocini di Grosseto, Michela Albiani di Arezzo, Claudia Toccacelli di Signa e Serena Olmi di Avenza. È stata inoltre eletta la Miss Mascotte Toscana, la fascia che viene assegnata alle concorrenti ancora minorenni e che dà diritto a partecipare alle finali regionali del prossimo anno. Ha vinto Lucrezia Massari, 17 anni, di Carrara.